Una moglie bellissima è un film dove c'è ancora un po' della maturità in qualche maniera, è una commedia romantica che però ha anche dei momenti di grande malinconia. Com'è nato? È nato perché il film è sempre figlio del momento dell'idea della sceneggiatura. Con Giovanni Veronesi volevamo raccontare, prima di tutto non perdere di vista la mia età anagrafica e cercare sempre di far crescere il personaggio di conseguenza anche all'età. Per cui ci sembrava importante raccontare un 42enne sposato da 10 anni, risolto sentimentalmente a differenza di tutti gli altri miei personaggi che invece faticavano sempre alla ricerca di queste conquiste eccezionali, di queste donne meravigliose. Invece a 42 anni sposato da 10 con una situazione bella, sanguigna, di provincia, con questo banco di frutta e verdura, con una grande ed unica aspirazione, oltre a quella di fare figli, che è quella di comprarsi un fondo commerciale per cui potersi togliere dal caldo dell'estate sotto l'ombrellone del mercato o dal freddo dell'inverno. Poi con però un ciclone alla rovescia, un bellissimo fotografo che tra virgolette inserisce nel magico mondo dello spettacolo comunque dall'occasione dei 15 minuti di popolarità di Andy Warlow a una moglie, a una moglie che a quel punto fa crollare le certezze della coppia perché passando dalla roulotte dove loro passano l'estate allo yacht della presentazione del calendario la coppia ne potrebbe sicuramente risentire. E laddove lei scivola in questo tranello abbastanza anche in maniera banale e prevedibile lui invece si fa forte di quelle frasi da commedia sentimentale degli anni 40 la frase è lascia pure andare la tua moglie o la tua compagna o la tua fidanzata perché se torna è tua per sempre. Per cui un paladino dell'amore come raramente si racconta o che io non ho mai raccontato che si fa forte proprio che il perdono è la cosa più naturale che invece è ai giorni d'oggi la cosa più difficile in assoluto. No, io ho incontrato 7-8 anni fa il mio vecchio prete ero con la mia ex fidanzata e mi disse sai dimostrerai quanto la ami non per come la saprai amare e in che modo ma per come la saprai perdonare. Per cui è una cosa nobile che il nostro Mariano nel film mette in atto a differenza di tanti e tanti di noi che non ci riesce nella vita. Però lo fa attraverso un dialogo molto particolare a parte molto toccante, molto coinvolgente però anche molto molto semplice mi sono perso qualcosa c'è una domanda che nasconde molto nella sua semplicità come l'avete scritto? Beh noi volevamo appunto raccontare proprio l'essenza del perdono l'essenza del perdono è fingere che quello non sia accaduto per cui la cosa bella è non ritornare neanche nell'immediatezza dell'accaduto sul fatto proprio dimenticarselo e con una battuta a stemperare dicendo ma mi sono perso qualcosa riferito chiaramente all'amore nei confronti della moglie ma e soprattutto a quello che era successo in quell'anno in cui loro non si sono visti per cui una dichiarazione nuova d'amore che fa dire infatti alla moglie non ti sei perso niente anzi sai che ti dico mi è venuta una fame e da lì a breve loro sono nel loro habitat naturale hanno appena lasciato lei soprattutto il caviale dello yacht e sono tornati di fronte a un baracchino che vende la porchetta a mangiare un panino di fronte a quello che dovrebbe essere l'ideale del proseguimento della loro vita cioè un figlio e un figlio dal nome bizzarro come ormai bizzarro bizzarro è il fatto che due stiano insieme da così tanto tempo per cui ben venga il tramonto il finale del film è in crescendo è travolgente da un lato abbiamo una vita difficile di sordi con la scena della piscina e in questo senso anche del rifiuto del mondo dello spettacolo però è anche un film di piedaccioni dove tu riflettevi su quello che ti era successo nel corso degli anni precedenti quanto ti divertiva insomma a contrapporre la vita semplice alla vita diciamo molto di riflettori molto è proprio spero che sia il trinunfo proprio come dicevo prima della porchetta sul caviale nel senso che mi divertiva molto raccontare una storia fatta di persone vere forti che vengono dalla terra dal popolo contrapposta a una serie di personaggi che parlano di marketing parlano quelle parole inglesi che non si sa che cosa vogliono dire ma nascondono sempre dei trabocchetti in realtà anche il personaggio del fotografo di Gabriel Garco si scopre che non è sincero per niente che l'unica attrattiva che è stata quella che l'ha fatto mettere insieme a Miranda e che è una figurina che gli mancava nella sua collezione non aveva avuto evidentemente una persona diretta semplice anche un poca fona sicuramente la chiama la carciofara pur standoci insieme evidentemente le sue frequentazioni erano da modelle altolocate e intellettuali ma laddove quello per lui è un personaggio da frequentare mantenendo le distanze per Mariano invece è l'essenza della verità e dell'amore ed è giusto allora perdonarla nel film ci sono dei vari giochi Miranda sappiamo vuol dire da ammirare o da osservare il campanello che suona ceccherini è in realtà la musica di incontri avvicinati del terzo tipo che poi viene citato nel finale e poi ci sono molti giochi metacinematografici che voi avete fatto quanto ti diverte disseminare ormai il tuo cinema di tanti dettagli anche le canzoni insomma tanti dettagli guarda che sicuramente anche quando scrivi anche a livello inconscio ci cascano dentro proprio perché io sono un grande fan della commedia credo di averne vista veramente tanto sia quella italiana che quella degli altri paesi ed è naturale fare subito dei riferimenti che invece sembrerebbero quasi originali quando scrivi ti sembra perché quello fa parte proprio del tuo bagaglio capito del tuo bagaglio da cinefilo che ti piace anche un po' metterlo apposta perché ti diverte e un po' ci va dentro senza che tu lo sappia insomma questo possiamo considerare questa commedia questo film di grande intertenimento anche un messaggio sulle tentazioni sicuramente sicuramente delle tentazioni ridicole di chi gli basta avere delle fattezze perfette per poi credere di essere inserito in un discorso artistico che di artistico non può avere niente perché senza talento si fa vedere solamente appunto quello che mamma ti ha regalato ma che magari non hai altro altro che quello il fatto stesso che Mariano aspetti è perché comunque è convinto che la propria moglie abbia sicuramente delle qualità come donna ma forse non come artista sicché anche quello che lo fa forte di una resa dei conti incondizionata da parte della moglie di una resa